Gentili telespettatori, buona giornata. Eh sì, l'astro nascente di sinistra, Valentina Mira, che dice che è giusto colpire i fasci. Bene, è nata negli anni 90 ma lei sa, sa, tante cose del passato. Finalista del premio strega. Non è che se uno è nato negli anni 90 non può parlare della seconda guerra mondiale e degli anni successivi, ci mancherebbe altro. Anch'io non sono nato nella seconda guerra mondiale, però ho parlato tante volte, ma non è per questo. Però lascia un po' così sentire che una persona nata negli anni 90 pontifichi sulla resistenza, su quegli anni. Ti lascia un po'... eh? Però tutti hanno diritto di esprimere le loro opinioni. Il fatto è che questa Valentina Mira, selezionata tra i dodici finalisti del premio strega, con il suo libro romanzo, quello che è dalla stessa parte mi troverai, diventa una sorta di eroina sinistra, della sinistra, un astro nascente. Beh, il fatto ormai si sa, il volume parla anche della strage di H. Larenzia, usando dei toni che a qualcuno sono sembrati irrispettosi nei confronti delle vittime. In difesa della Mira si era schierata anche un peso massimo della cultura, come Dacia Maraini, con un lungo intervento pubblicato sul Corriere della Sera. Chi invoca la censura di fronte alla scelta di un premio prestigioso come lo strega dichiara di esercitare solo il diritto di critica, ma quando il diritto di critica proviene da più importanti rappresentanti del governo non si tratta solo di critica, ma di intolleranza istituzionale, la quale si trasforma pericolosamente in una sfida, un invito alla condanna mediatica, cosa che infatti sta avvenendo perché Valentina viene quotidianamente insultata sui social e qualcuno l'ha anche minacciata. Allora, sono d'accordo che chi è al governo non deve aizzare nessuno, arriva finalista al premio strega dicendo alcune cose che possono essere condivisibili o no, può dire anche delle cose che sono al limite della democrazia o non sono democratiche, scrivendo un libro e va bene, lasciategli scrivere il libro. Sono d'accordo che le istituzioni non devono intervenire su libri o cose del genere, però mi chiedo, davvero le istituzioni italiane sono intervenute su questo o sono i giornali italiani di destra che hanno parlato di questo astro nascente? Perché non mi sembra che Meloni o i suoi ministri si siano messi a parlare di questo libro, ne parlano i giornali di destra perché cercano argomenti che servano alla causa eccetera eccetera, ma si mischia, il giornale di destra non è l'istituzione. La Mariani si riferisce alle critiche rivolte al libro, ecco sì, ci sono stati alcuni esponenti di Fratelli d'Italia che hanno fatto una polemica, però una cosa sono alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, ce ne sono migliaia in Italia, una cosa è dire il ministro X o Y si è messo a criticare un libro, ecco, quindi che alcuni esponenti di Fratelli d'Italia abbiano criticato questo libro, insomma, possiamo lasciare dare la propria opinione a tutti i politici italiani di comuni, province, regioni o no? O se sei un politico devi star zitto? Se la tua parte politica governa devi star zitto? No, che c'entra? Un conto è la Meloni, i ministri e i presidenti delle camere, ma il resto dei politici potrà anche commentare un libro o no? O dobbiamo fare la censura al contrario? Perché quando hanno censurato e parlato male dei Vannacci e del suo libro? Ecco, insomma, allora, come diciamo che Vannacci è libero di scrivere quello che vuole se non offende nessuno, anche l'astronascente di sinistra è libero di scrivere quello che vuole se non offende nessuno. Però non è detto che il libro di Vannacci bisogna impedirne la presentazione, mentre il libro di quest'altra donna invece deve stare tutti zitti ad ascoltare. Due pesi e due misure come si fanno di solito nelle tifoserie. Alcuni politici di Fratelli d'Italia hanno criticato alcuni passaggi del libro, ma non è arrivata nessuna richiesta di censura e non è mai stata impedita la diffusione o la presentazione di questo libro. Ecco, intanto, anzi, come è successo per Vannacci, l'esposizione mediatica fa solo aumentare le vendite di questo libro, pertanto l'astronascente di sinistra credo che sia ben contenta perché parlando continuamente del suo libro è pubblicità gratuita. Sapete che costa fare la pubblicità? Se volete che un giornale vi faccia la pubblicità di un vostro libro o di voi stessi dovete pagare. Nel senso, se io volessi un articolo su un giornalone di quelli proprio grossi, se io contatto un giornalone e dico non è che mi fate un articolo su di me, YouTube, dicono che paga un bel po' di soldi e domani hai l'articolo in seconda pagina. Ecco, o il giornalone decide di parlare di te, ed è gratis, ma se sei tu che vuoi che il giornalone parli di te, devi pagare. Ecco, quindi questa donna sta avendo pubblicità gratuita come ha avuto Vannacci, pubblicità gratuita. E poi nessuno ha parlato dove sarebbe questa presunta intolleranza istituzionale. Un politico di Fratelli d'Italia non è l'istituzione, non è né un ministro né niente. Sì, fa parte delle istituzioni. Allora che vuol dire? Che nessun politico deve parlare di niente? Quando tu diventi un politico devi star zitto? Quando parliamo di intolleranza istituzionale dobbiamo parlare degli membri del governo. Bene. E così. A questo punto l'autrice poi in alcuni passaggi dice che i fascisti hanno a che fare col motivo per cui ho scelto di raccontare questa storia. A volte vorrei soffrire di vittimismo autoassolutorio come loro, purtroppo non mi appartiene. Sono consapevole di averli frequentati, non una vittima ma una complice. Roma, Calarenzia, fratricidio, le famiglie sventrate non dalla politica ma dal fascismo, l'antifascismo che fin dall'etimologia è una risposta ed è violenta questa risposta. Sì, lo è necessariamente. Ma attenzione, qui viene il punto. Non bisogna pensare che quello che è successo nella seconda guerra mondiale lo si possa fare in democrazia. Se alla fine della seconda guerra mondiale i fascisti venivano perseguitati, perché è successo così, alla fine della seconda guerra mondiale tutti gli italiani fascisti sono diventati tutti antifascisti. Quelli che sono rimasti fascisti e sono stati individuati come collaborazionisti del regime, che poi lo erano quasi tutti, sono stati perseguitati con la violenza. Quello che è stato fatto alla fine della seconda guerra mondiale non lo devi fare in tempo di pace. Quello che fai durante i tempi di guerra sono una cosa. Quindi non mi puoi dire che la risposta contro il fascismo e la violenza necessariamente è che in tempo di democrazia ci sono i magistrati, i giudici, le denunce, ma non c'è violenza come diceva quell'altro Raimo che lui spiega agli alunni che gli devi menare ai fascisti. No, quello era i tempi di guerra, tempo di pace, spiegate a questi astri nascenti che cos'è la democrazia. Arrivederci a tutti e grazie.